La Puglia, regione ospite quest'anno al Salone del Libro di Torino, ha riempito di libri le teste di tutti e in tutti i sensi. I libri, infatti, di forgia e misure diverse, piccolissimi o grandi, hanno invaso lo stand di Puglia Promozione sul piazzale antistante in Lingotto. Si sono riempiti così via via gli scaffali della biblioteca particolare dell'artista Agostino Iacurci, opera realizzata per il Salone del Libro di Torino e ospitata nello stand della Puglia. Le librerie sono due volti in legno che si guardano e sono stati riempiti in questi giorni dai libri che i visitatori stanno donando o addirittura che stanno costruendo con carta riciclata grazie ai laboratori di rilegatura artigianale. La biblioteca particolare di Iacurci rimarrà a Torino in quanto dono dell'artista e della Puglia alla città piemontese. Con due aree distinte, 37 editori locali e più di 80 eventi, la Puglia sta incantando il Salone di Torino. Tra gli eventi più apprezzati, l'intervento di Roberto Erlitzka su Aldo Moro, Checco Zalone, Albano e la lettura a social proposta dagli organizzatori dei Dialoghi di Trani con Mario Desiati, uno dei più giovani e talentuosi autori pugliesi. Desiati ha incontrato e dialogato con i ragazzi delle scuole superiori tranesi in diretta streaming dal Salone di Torino. Grande successo inoltre per l'iniziativa di Puglia a promozione l'Only Planet che ha permesso il download gratuito della guida della Puglia nei giorni della manifestazione torinese. Presentata anche la Digital Library della Regione Puglia, una piattaforma piena di contenuti che illustrano la grandezza del patrimonio culturale pugliese, dai beni ambientali e monumenti, dai musei alle biblioteche, fruibili da ogni parte del mondo. Omaggiato anche il film Il racconto dei racconti di Matteo Garrone, girato ad Andrea Cassè del Monte, una riproduzione infatti del famoso drago del film, esposta nei corridoi della fiera, è diventata una vera attrazione protagonista di molti selfie dei visitatori. Infine nel fuori salone il villaggio Puglia è stato un punto di ritrovo con musica pugliese, degustazioni di prodotti tipici, gadget e materiale informativo sulla nostra regione. Plauso anche del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che ha dichiarato. Vedere lo stand Puglia, pieno di persone venute da tutta Italia, tantissimi giovani, tutti uniti dall'emozione della lettura, è davvero una grande gioia. Sono grato a ciascuno degli autori, degli editori e dei lettori per come stanno animando questo spazio. La Regione Puglia, nel suo piccolo, cerca di non perdersi la bellezza dei vostri libri e delle vostre parole.